In realtà è interessante la proposta, però rimane il fatto che tutto è parametrato al diritto del proponente di fare l'ultimo minuto. Ora, se il proponente stava davanti a 18 interventi, lui in un minuto non risponderà a nessuna di queste 18 persone. E' anche vero che questo separamento dura un'ora, un'ora e un quarto, e vorremmo che ci fossero almeno 7, 8, 10 interventi del pubblico. Quindi, aumentando a disvisura gli interventi del pubblico per un singolo intervento, avremmo che in quella ora avremmo pochissimi interventi del pubblico, ne avremmo due, pochissime proposte, ne avremmo una o due. Probabilmente in questo periodo storico la democrazia diretta è talmente involuta, non esiste, che questo è un proto esperimento. In futuro, quando arriveranno 60 persone solo per la democrazia diretta, appoggerò la tua proposta. Io sono d'accordo, penso che si potrebbe tranquillamente arrivare al minimo, minimo anche a 4, se non lo c'è. Un terzo intervento, il terzo intervento, prima di farlo, se non c'è nessuno... Prego, Davide, e poi Elio fa nel minuto finale. Penso che la scelta che è stata fatta a Massimiliano risponda a una logica di ottimizzazione del tempo e dell'obiettivo, e quindi quando si vogliono fare esperimenti di questo tipo, in generale, in tutti i casi in cui si vuole provare ad applicare una vera democrazia, come il concetto di libertà, la libertà inizia, laddove finisce quella di un altro, stesso modo la democrazia è stesa al massimo del suo concetto, non può essere, bisogna porre di l'interazione, questo è uno di questi, in modo da farla funzionare meglio. Grazie. Elio, il minuto finale. Bene, allora però dovresti spiegare a cosa corrisponderebbe nella democrazia diretta, una democrazia nazionale, questi tre interventi degli lettori, dei votanti, a cosa corrisponderebbero. Per me andrebbe benissimo anche dibattere, per l'esperimento di democrazia diretta, su due argomenti, con una quantità maggiore di dibattito, oppure nessun dibattito, uno propone e si vota. Chi è d'accordo con la proposta di Elio, vota la mano. Uno, due, tre, quattro, cinque a sinistra, undici. Andiamo avanti, ancora nel tempo ce l'abbiamo, perché questo poco prenderà Pasqui, però abbiamo ancora una mezz'ora. Quindi la domanda è avete un cuore? E' il mio dice che c'è un cuore, perché ha fatto la proposta. Chi ha un cuore e ha nel cuore una proposta, la vuole... Alla revoca del mandato. Stella, la revoca del mandato. Prego, due minuti. Semplicemente che se i politici non si attengono al programma che hanno comunque portato in elezione, e vengano revocati, ovvero se ne vadano fuori dalle palle, perché ci sono troppi politici che promettono, praticamente tutti, è vero che li abbiamo votati noi, è vero che abbiamo la responsabilità, però sta di fatto che il 99% dei politici non fanno quello che hanno detto nel programma. Ok, qualcuno è d'accordo con Stella o il disaccordo? Allora, la signora, poi il Dino che non ha mai parlato. No, no, io sono d'accordo con... Io sono d'accordo perfettamente con la revoca del mandato. Forse non è facile tecnicamente da realizzarsi, ma come idea è perfetta. Perché è l'unico modo per controllarli e stimolarli. Perché se no se ne fregano di tutto e di tutti. Ok. Ha fatto la mano prima lui e poi lui. Lui è il terzo. Uno di voi due, Vino e Elio. No, io due secondi, no, sono d'accordo con quello che dice lei nella revoca del mandato, perché tutti promettono e poi alla fine... Che, due secondi. Come Schwarzenegger in California. Elio? Il Dino suona bene, però bisognerebbe chiarire come chi dovrebbe decidere come... come a revocare il mandato. Ma c'è già per il voto di sfiducia. Una nuova elezione, oppure qualche magistrato, e poi in base a quei criteri. Credo che la cosa sarebbe difficile da valutare. Ci sono delle situazioni in cui un mandato è obiettivamente irrealizzabile. Quindi ci sarebbero dei dibattimenti tra chi dice che il candidato, insomma, l'eletto non poteva effettivamente... L'eletto. non poteva assolutamente realizzare il mandato, anche se nonostante tutto il suo impegno e la buona volontà. Quindi questa regola sarebbe, a mio avviso, antidemocratica. È pericolosa. E questo era l'intervento? Era il terzo? Quale cronometrista sta? Allora, cos'era il terzo o secondo intervento questo? No, dai. Era il terzo. Quindi il proponente è Stella. Il proponente propone tramite referendum propositivo di revocare il mandato. Perché comunque il politico che ha delle buone intenzioni sicuramente porta a termine quello che ha da portare a termine. Chi non ha buone intenzioni si fa eleggere per poter rimanere col culo su quella sedia il più possibile come prendiamo il truffolo e ce l'abbiamo tra le palle dal 1992. Quindi, chiaramente. Per cui penso che sia chiaramente visto che abbiamo la possibilità di utilizzare la democrazia diretta applichiamola tramite il terreno. Il nostro editore che ha fatto tutto il serio stamattina nella sua conferenza ha messo i centesimi? No, ci sono. Ok, votiamo, Vestella. Tu conti a destra. Allora. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sette col mio. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tutti quanti? 22 più 7, 29. Sì, sì. Allora. Qualche altra propostina? Nessuno che ce lo parli del signoraggio monetario, la polizia, 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 la polizia. Lino, vuoi fare una proposta? Perché stai seduto? Ma non sono molto... Eh venga, 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 dai Vito, troppo niente deve stare qua, eh, t'ho chiamato Vito, ma tu sei molto più bravo di me, la polizia del signoraggio perché viviamo dentro questa, come la chiamano, una eurozona, viviamo tempi strani, niente, la polizia del signoraggio cos'è? C'è, siccome la BCE è autorizzata a stampare carta moneta, a costo praticamente zero, sono circa 20-30 centesimi il reale costo della banconota, e la BCE si appropria di questa differenza che lei incamera, continua a incamerare montagne di denaro che non abbiamo neanche un'idea di quanto possa essere, perché poi, infatti, tutto questo denaro viene dirottato verso i paradisi fiscali, no? L'hanno già beccati, eh? L'hanno già beccati? Anche la banca d'Italia, cioè i compiti, la porti alle carri, ma no, eh, e poi, no, questo denaro è... E' fatto da tutta una serie di scatole cinesi che non si capisce sto denaro, effettivamente, di chi è sto denaro qua? Basta, ho finito. No, dai, è un argomento ultra serio questo, quindi pregherei di venire qua per esporre... Chi vuole esporre? Ha visto la mano alzata? Prego, come ti chiami? Prego, inizia. Io vorrei invitare tutti i signori qui presenti a ritornare a quell'idea kantiana che è espressa in una celebre epigrafe tombaria. Diceva, due sono le cose che non cessano mai di stupirmi. Il cielo stellato che è sopra di me, la coscienza morale che è dentro di me. Questi sono i valori che dobbiamo continuare a perseguire con grande costanza. Tutte le idee sono fantastiche da attuare. Poi quando si arriva, poi bisogna, parliamo di politica, dovremmo capire intanto che cosa vuol dire fare politica. Fare politica vuol dire gestire la cosa pubblica come se fosse la propria. Noi non ci vogliamo più bene, noi ci dobbiamo volere bene e noi non ci vogliamo bene. Parliamo tanto di spiritualità, di amore da elargire. Siamo l'uno contro l'altro. E basta, è finito, scusate. No, no, vada avanti. Sì, perfetto, nel minuto. Altri due interventini al minuto per appoggiare o criticare la proposta di Dino. Prego, venivoli. E poi Davide. Anche a Napoli e a Roma, spero se soccato di più diversa. Anche tutti i paesani, in realtà. Dipende da dire meno. No, volevo dire che... La signora è uscita un pochettino fuori di te, ma non credo. Nell'intervento, non penso che volesse, fosse uno sfogo personale. Il fatto del signoraggio è una questione molto complicata, è difficile, diciamo, barcamenarsi e capire cosiddetto scatole cinesi. Il punto è che, insomma, è troppo facile dire eliminiamo il signoraggio. Perché, e qual è? Come lo sostituiamo? Che cosa facciamo? Quindi, secondo me, la cosa che, insomma, le persone dovrebbero cominciare a capire è che è inutile lamentarsi. È inutile, diciamo, andare a semplicemente... Cioè, è inutile fermarsi nel trovare semplicemente quella cosa che non va. Ma provare a cercare di capire come fare per sostituirla. Perché sennò siamo sempre lì. Perché la critica, diciamo, non costruttiva serve a nulla. Non serve assolutamente a nulla. Ed è quello che avete fatto, quelli che parlano con quelli che... Quello che avete fatto finora è stato questo. Criticare e basta. Sì, ma mi sembra che l'abbia fatto anche lei, vero? No, io dico quello che è. Cioè, solo criticare. Non c'è stata una proposta seria. Lei sta criticando la critica? Chi era Davide? Terzo minuto. Davide? Scatola cinesi. Il problema del signoraggio. Il problema del signoraggio è un problema particolarmente complesso. Perché riguarda tutto il sistema di emissione della moneta e capire se è questa la causa, quanto questo influisca sui nostri problemi economici. Io ho studiato un po' questo argomento, lo sto studiando, non l'ho ancora ben capito completamente. Comunque, secondo me è scorretto dire, fare il discorso che la banca centrale si incamera tutta la differenza tra valore nominale e valore... E va al costo della carta. Perché se si vanno a vedere i bilanci, non funziona così, ma funziona che la moneta, le banconote messe, vengono considerate come un debito. Infatti il concetto del sistema dell'emissione monetaria è basato sulla moneta a debito. E su come... E quali sono i meccanismi su cui su questa si basa? È un problema complesso, che quindi non mi sento di appoggiare, di affrontare adesso, che bisogna fare... Comunque ne parliamo. Era il terzo, mi sembra. Giusto? Quindi il proponente... E che è Lino? Il minuto finale. Prego, Lino.